... di infrastrutture che mancano veramente sia materiale che materiali. È stato un anno difficile per l'economia provinciale. Nei primi 11 mesi dell'anno la differenza tra iscrizioni di nuove imprese e cessazioni è di meno 669, un dato fortemente negativo che emerge dai numeri del centro studi CNA sui dati Infocamere e nuove imprese della Camera di Commercio Marche. Nonostante questo, però, le imprese del territorio che hanno saputo resistere ai colpi durissimi delle crisi di questi anni si sono fortificate. Infatti, per molte di loro si sono registrati numeri significativi in relazione ai fatturati e agli scambi internazionali. Purtroppo il 2022 è stato un anno in cui la nostra imprenditoria in generale ha vissuto in un limbo. Si sono coagulati insieme dei fattori molto negativi, che io ho chiamato la tempesta perfetta negli ultimi mesi. Una guerra nel cuore dell'Europa, che doveva essere soltanto un blitz militare, invece è una guerra strutturata. La pandemia che comunque tuttora blocca uno dei mercati mondiali più importanti, quello cinese. Soltanto negli ultimi giorni c'è qualche riapertura. All'inizio il problema delle materie prime, che non si trovavano, e poi quando si trovavano a prezzi clamorosamente impazziti. E in più il caro energia che ha portato dentro anche un'inflazione altissima, quindi con l'aumento del costo del denaro. Tutti questi fattori insieme hanno creato l'unico vero sentimento che un imprenditore non vuole mai provare, l'incertezza. I dati dell'economia ne risentono, ha proseguito Bordoni, ma bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. La selezione naturale ha creato una classe imprenditoriale molto strutturata all'altezza di governare i mercati internazionali. Nella riprova il dato straordinario dell'export nel 2022, cresciuto del 19% in provincia e del 90% in regione, ponendo le marche in testa a tutte le regioni italiane. Non disperiamoci, ha aggiunto, perché ci sono le condizioni per guardare al futuro in modo più sereno. Servono però interventi strutturali. Tra i temi fondamentali, quello delle infrastrutture a partire dalla rete ferroviaria. Così come la terza corsia nel sud delle Marche, che è ancora un problema notevole, senza parlare poi del problema che abbiamo, io dico, clamoroso, dello spostamento tra est e ovest. Per raggiungere Roma, dal nostro territorio, dalla nostra provincia, è uno di sé. Voglio aggiungere che non si sono fatti grandi passi avanti neanche nelle infrastrutture immateriali. Altro grandissimo problema, parliamo di mercato globale, di cablare tutto il mondo, quando all'interno della provincia di Pesur Urbino ci sono alcuni punti in cui non prendere neanche il cellulare. E non parlo della rete internet che potete immaginare praticamente inesistente in alcune situazioni. Tutti questi problemi vanno risolti, ha concluso Bordoni, e devono essere al primo punto dell'agenda di un governo serio. La politica non ha più alibi, non c'è il piano B. I dati sul lavoro registrano effetti positivi? Sì, in parte diciamo che ci soddisfano abbastanza nel fatto che c'è una maggiore richiesta di addetti giovani, sotto i 30 anni sostanzialmente, quindi questo è importante. La maggior richiesta viene appunto dal settore dei servizi che pare che tenga come settore. Come ho detto anche la ristorazione ha un'importante richiesta. Altri settori più classici diciamo che invece non hanno lo stesso appeal, perché ad esempio la meccanica e l'elettronica perdono abbastanza. La metà delle imprese cercano, ma non riescono a trovare personale qualificato oppure adeguato diciamo alle esigenze che hanno. Che cosa si auspica per il 2023? Allora, per il 2023 sostanzialmente cerchiamo di vederla positiva, nonostante le difficoltà. Dovesse ripartire il tutto comunque avremo un grande slancio. Noi siamo pronti perché questa crisi è strutturale sostanzialmente. Quindi nel momento in cui l'ambiente sconta le limitazioni che ha attualmente, si potrebbe veramente sperare una vera ripresa sostanziosa. Le nostre aziende sono pronte.